... Allora Napoli con la Palestina Napoli con Vittoria Ricconi, sembrerebbe che il singolo di Napoli ha accolto la nave a differenza di Alemanno che purtroppo ha dovuto passare a largo il porto dei ossi altrimenti sarebbe stata bloccata Certo, ma Napoli è nota per la solidarietà che esprime, la popolazione di Napoli esprime in solidarietà dei popoli oppressi, tra cui anche il popolo palettinese è oppresso da sionisti e dagli imperialisti americani e israeliani Sì, sì, sul napoletano si sente Senti, ma Napoli è una città che sta diventando un momento di solidarietà con i popoli c'è il momento dei diritti, il momento dei beni comuni C'è stata una discossa napoletana, del popolo napoletano, del popolo organizzato napoletano che si è espresso pure con le elezioni di De Magistris anche se attualmente il sindaco è venuto un pochino meno a quello che erano i suoi proclami tuttavia resta fermo su alcuni aspetti tipo la solidarietà al popolo palettinese che sta esprimendo patrocinando anche l'iniziativa di oggi sulla questione delle stelle che parte per Gaza e per questo è stato attaccato fortemente anche dalla rappresentante del popolo israeliano che è presente qui a Napoli Ah, una rappresentante del popolo israeliano Sì, un'associazione di... Però, diciamo, parliamo dei popoli israeliani Appunto, appunto, è sbagliato dire popolo Un governo israeliano perché voglio dire... Una rappresentante sionista, diciamo, ecco Una rappresentante del sionismo No, perché poi mi sembrerebbe che alla Spezia a subire hanno dovuto far controlli a Nave A Ostia è dovuta addirittura passare velocemente perché sennò l'avrebbero proprio blocchiata Qui a Napoli sembrerebbe che il sindaco addirittura l'ha fatta parche già E che sta... Ha patrocinato l'iniziativa in tutto e per tutto Tanti permessi concedendo quello che sono, diciamo, in testa All'amministrazione comunale, diciamo, tutte le possibili Anche se avrebbe potuto fare di più Oggi essere presente qui con un confalone Ufficialmente alla partenza della Nave Ah, perché non è presente Non è presente, il comune comunque non è presente Però mi sembra che ci sia qualche consigliere comunale Lo stiamo a pensare Lo stiamo a pensare Qua non me la metto avanti? Sì, sì Forse tempo gli anni non ci avrebbero Per far più E a pensare un francesco E a pensare un francesco Grazie a tutti. 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 Grazie. Mi amor. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti.